Inizio a setacciare 300 grammi di farina e 8 grammi di lievito per dolci. Metto in una ciotola 250 grammi di zucchero e 3 uova. Lavoro insieme con le fruste elettriche a velocità media. Aggiungo poi 220 ml di olio d'oliva e 200 grammi di yogurt bianco naturale. Unisco il composto, farina e lievito. Continuo a lavorare con le fruste elettriche. Aggiungo mezzo cucchiaio di estratto di olio d'oliva. Aggiungo il composto di vaniglia e la scorza di mezzo limone grattugiata. Metto l'impasto in uno stampo per plum cake foderato con carta forno. Faccio cuocere in forno statico a 180 gradi per 45 minuti. Dopo un quarto d'ora di cottura pratico un'incisione per favorire la lievitazione del dolce. Il plum cake è pronto, alla prossima ricetta!